Ciao ragazzi, siamo da Dioro di San Babila e con noi Francesco che ci aiuta a fare un bellissimo Cosa mi hai realizzato oggi? Allora, oggi abbiamo realizzato un make-up utilizzando la nuova palette che è la 002, 002 e la warm, quindi abbiamo dei colori naturali all'interno e abbiamo utilizzato in realtà in maniera molto molto leggera, quelli che sono sempre le tessure che potete mostrare hanno a lavorare sul colore castano dei tuoi occhi Quindi è un trucco personalizzato? Assolutamente sì, personalizzato e che viene conto di quelle che sono le tessure Ho utilizzato anche per il fondo il primer nuovo che è quello della Lila Backstage che ti fa lavorare molto bene sulle pelle, se invece quando siamo dei pellevisti potranno anche stabilizzare la base Per tutti, un trucco giuono, sicuramente, adesso abbiamo appena terminato la parte alta del trucco quindi generalmente si inizia dalla parte alta poi dipende, poi in questa fase si inizia dalla parte alta stiamo adesso buon eserci creando un minimo di contrasto per dare la base un po' di luce Lo facciamo intanto, finiamo la parte alta con mascara questo è di qua come a casa questo è di qua come a casa questo è di qua come a casa è quello che è molto importante ma non l'abbiamo sulla classe perché ricordiamo dell'assa naturale per esempio per una notte finale per una notte in Milano per una notte in Madagascada o per una notte in Madagascada o per una notte in casa grazie e per una notte in scuola per una notte in scuola il senso di backstage è proprio di un trucco assolutamente naturale ma è un problema che va a valorizzare quelli che sono gli elementi quindi la faccia per un filo si voleva fare un po' di cacca per riuscire in un visato esatto ecco in questo caso si lavora su quelli che sono gli elementi di forza e facciamo gli orienti più possibili avendo una parte alta sull'occhio molto ampia si riesce a creare anche una sfumatura leggera ma che va a valorizzare proprio quello che è il colore dell'occhio che non è un castano fio ma un castano con degli effetti più aromatici e quindi il colore tiene conto proprio di questo adesso usiamo quello che è il flasso di cui vi parlavo che è il Drapalgar per andare a dare un tocco di colore vicino alla parte di massimità dell'occhio e questo ci aiuta a dare dei conti di caccia che ci ha fatto da un po' di caccia così abbiamo fatto da un po' di caccia ma abbiamo fatto da un po' di caccia quindi non deve essere stato molto più stracolante sono un piccolato per il fatto che ha fatto da un po' di caccia le labbra idratate. Quindi iniziamo ad applicare le labbra in maniera naturale, ma dibattiamo dal libro 001, che è un colore particolarmente di conversare, che il balsamo è immediatamente idratante sulle labbra, ma raccogliano anche i colori delle labbra grazie alla tecnologia che ha il suo interno. Siamo a tamponare le labbra. Ciao, è morbidissimo e ci consente un labbra, un po' di colore, magari, allora, mi serve questa nostra azione, per tonademi.